allora sono qui con questa immagine dove ho un albero che deve essere che è lavorato una contropunta è un trascinatore il trascinatore è fatto così dove ho anch'io la diciamo la punta e questi che vengono chiamati in inglese drive pins che sono questi qua ok dunque questi sono questi qua in questo caso ne ho sei e mi permettono di trasmettere la coppia sono fatti così line pin for torque transmission inter work piece for soft green tooling comunque praticamente incidono un po il materiale mi permettono la trasmissione della coppia qui ce ne sono tre vabbè possono avere queste forme differenti ok qui o la pesca dunque questo è come è qui ok e poi questo è diciamo girato dunque questo è questo qua e questo ok lo metto qua sotto e dunque abbiamo trascinatore l'albero e la contropunta dunque come si vede qui innanzitutto per metterlo nel trascinatore devo avere contropunta devo avere i fori per la contropunta sia da una parte che dall'altra quello importante l'altra cosa è che io posso lavorare sia con l'utensile destro che con quello sinistro e dunque magari anche in contemporanea si potrebbe vabbè comunque posso lavorare sia dunque sarebbe poi da indicare destro sinistro nel caso si utilizzi comunque ricapitolando questo è il mio trascinatore ha una una punta e a seconda del modello questi dry pins che mi permettono di trasmettere la coppia e dunque il movimento sull'albero ok naturalmente mi rovineranno un pochino la superficie e dunque io posso fare tutte le lavorazioni di tornitura poi ce ne sono altri particolari per la rettifica ma anche di rettificatura ok e e posso nel caso di tornitura usare destro sinistro l'importante è che comunque sul pezzo prima di mettere trascinatore devo fare le sedi per le due per le due punte nel pezzo nel work piece vabbè spero di essere stato utile ci vediamo alla prossima arrivederci